Il tema del cambiamento climatico è stato definito una delle più grandi questioni di questo secolo per l'umanità. Il problema la comunità scientifica l'ha mai mostrato in modo molto chiaro, è inequivocabile all'escaldamento del pianeta, è chiarissimo che la responsabilità largamente prevalente è dovuta all'attività umane, al fatto che bruciamo i combustibili fossili per produrre energia e deforestiamo il pianeta e se andremo avanti in questa direzione rischiamo di avere aumenti le temperature che possono mettere a rischio gli ecosistemi ma anche le attività umane, con tutta una serie di impatti su cui la comunità scientifica sta già lavorando, pensiamo alle ondate di calore ma anche i ghiacci, quindi si tratta anche di trovare adesso le risposte, cosa fare e quindi ci sono tante cose che si possono fare, sia nel cambiare il sistema energetico e molte di queste risposte hanno anche dei co-benefici, fanno bene su altri piani.